Ciao a tutti, anche questo video è in collaborazione con la Marco Bindi Live Band, della quale Berta Filava fa parte, e ormai penso che l'avete capito tutte, e tutti i contatti per raggiungermi li trovate nell'info box, e oggi vedremo una fustella fiocco della Sizzix, vedremo di questa fustella una dei due fiocchetti, ed è questa qui, la numero 658541, ok, aspettate che vi riprendo il disegno, ok, rieccomi, scusatemi, ok, ripeto, oggi la facciamo in modo diverso, questa fustella, faremo il secondo fiocchetto, lo faremo manualmente, perché ho visto che molte di voi cercano i fiocchetti piccoli, quindi cosa ho fatto? Ho rilavorato al computer il disegno della fustella, in tre misure diverse, e noi proveremo questa piccolissima e questa media, il file lo troverete disponibile su Berta Filava Store, penso, dalla prossima settimana, allora, cosa ho fatto? Aspettate, prendo prima la piccina piccina, ok, ovviamente dovete ritagliare lo schema con le forbice, prendete tutti i pezzetti, io ora vi faccio due misure, questa è quella media, vedete i suoi pezzetti, li appoggiate sopra, ok, sopra la vostra gomma, di questo pezzettino ne dovete fare due pezzi, e con la penna, ricalcate, con la penna o con la matita, ricalcate sopra la gomma Eva il disegno, ok, e lo tagliate, io ovviamente già me lo sono anticipata, vi faccio vedere anche questo, i pezzetti suoi, questa, e questo, ovviamente di questa codina ne servono due, perché con questa fustella, con questo disegno, riuscite a fare due modelli diversi di fiocco, ok, questa è quella più piccola, questa è piccolissima, veramente piccina piccina, forse è esagerato, però è bellino lo stesso, mettete la colla all'interno del fiocchetto, attenzione questa è d'austione, io forse questa vi consiglio di farla con la colla acetonica, di non fare come sto facendo ora io con la colla a caldo, questa è d'austione perché è piccolissima, sta da attendere i filetti, vedete, piccina piccina piccina, ok, anzi è quasi difficile farla incollare, però, eccolo, qui ci rimettiamo un pochino di colla, perché l'ho pulita involontariamente col dito, ok, l'ho incollata, prendete questo pezzo che è la parte di dietro, allora, scusate che si è staccato, mettete un pochino di colla, vedete, allora, e fate il vostro centro, con, diciamo, la parte rettangolare, vedete, questo è il fiocchettino, simpaticissimo, è un po' d'austione, ma è simpatico, allora, ora, se volete fare le godine basse, la mettete verso sotto, così, vedete, e incollate, e viene un fiocchetto di questo tipo, vedete, mettete così a X, e mettete sopra il fiocchetto, io ora voglio provarla a mettere sopra un fermaglietto da bimba, quindi, uso quest'altra godina, eccola qui, e vi metto, ok, poi ovviamente nel fotografico avrete anche quella con la godina verso sotto, oddio quanto è simpatica, proprio bella, è piccolina, è un po' scomodata da lavorare, è vero, però poi è molto bella, guardate che carina, forse devo usare quella tinta unita, nei prossimi video farò venia, ok, vediamo l'ammontaggio di quella media, come sempre, ripassate tutto sulla gomma eva, mi sono accorta da quella piccolina, che, diciamo, la lunghezza per fare il fiocco è corta, quindi la rifaccio più lunga, ok, quindi questo è un problema che ha anche la fustella originale, l'altro fiocco di questa fustella, ve la faccio proprio con la fustellata, perché io ho questo, questo, questa fustella, quindi vi faccio proprio il video dell'altra con la fustellata, mettiamo la colla all'interno, questo è giusto per rispondere a una ragazza che voleva sapere come fare quelle piccole, ora ve ne metterò qualcuno di fiocchetto piccolo, che poi andrete su Berta Filava Store a scaricarvi il file, ripeto, circa una settimana dall'uscita di questo video, perché l'ordine è prima su YouTube, eccolo qui, poi lo metto su Berta Filava a distanza di una settimana circa, per creare il database, ripeto, mettete la godina sotto, e questo viene così, poi comunque ne faccio un'altra, ora non vi faccio aspettare, e vi faccio vedere come viene nel fotografico, dicevo, poi esce circa dopo una settimana il video esce su Berta Filava in modo da averlo come database, e dopo circa tre settimane esce su Berta Filava alla pagina Facebook, vedete, io li faccio ancora, uso ancora questa codina, a me piacciono molto quando sono lineari fiocchi, ok, vedete, e incolliamo diciamo che questo è proprio come quella in foto, sulla fustella, come la seconda, però le due codine possono essere messe su tutte e due fiocchetti, sanno bene ovunque, ok, vi faccio vedere quanto è bella, anche se piccolina, sarà grande un tre centimetri, ora che ho allungato praticamente il centro va meglio, quindi metto tutta la fine il fiocchetto, incollo, la prossima volta che faccio questo fiocchetto lo faccio ancora più lungo, e poi lo taglio, ok, vi faccio vedere quanto è bella, aspettate che mi è andata un po' di colla sopra la parte glitterata, poi lo pulirò con calma, guardate quanto è bellino, sono molto belli, si vede, però poi lo pulisco bene bene, eccola qui, questa, questo è il fiocchetto piccolo creato con il modello che troverete su Berta Filava Store, vedete, la voglio attaccare qui, metto la colla, metto il mio fiocchetto, eccolo qui, guardate che carina, è molto simpatica questo fiocchetto piccolissimo, ripeto, queste tre proporzioni ve le lascio su Berta Filava, vedete, sarebbe potuto andare bene anche qui, solo che il colore non si addice, ok, aspettate che vado a prendere un'altra, un'altra ferretto che me lo sono dimenticata, e lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, e così rimanete sempre aggiornate, vi ringrazio come sempre perché siete in tante a venire su Facebook e a contattarmi, mi fa piacerissimo, ce la posso fare, scusatemi, eccolo, metto la colla, ed ecco l'altro fiocchetto, poi vi lascio anche nel fotografico il fiocchetto con la godina sotto, ora vi risparmio di vedere un'altra volta come si assembla perché ve l'ho spiegato, credo di essere stata chiara, si apre e si chiude, è molto bello, grazie a tutti, al prossimo video, vi lascio le foto, tutte e tre insieme a confronto, grazie a tutti,